Percy. Fino ad allora, il piano di camuffamento con la foschia della morte aveva funzionato, per cui naturalmente Percy si aspettava un enorme fiasco dell'ultimo minuto. A quindici metri dalle porte della morte, i ragazzi si bloccarono. «Oh dèi!» mormorò Annabeth. «Sono uguali!» Percy capì a cosa si riferiva. Incorniciato da ferro dell'ostige, il portale magico era formato da una coppia di porte di ascensore, due pannelli argento e nero su cui erano incisi motivi art deco. A parte il fatto che i colori erano invertiti, le porte erano identiche a quelle degli ascensori dell'Empire State Building, l'entrata del Monte Olimpo. Percy rimase senza fiato per la nostalgia. non gli mancava soltanto il Monte Olimpo. Gli mancava tutto quello che aveva abbandonato, New York, il campo mezzosangue, la madre e il patrigno. Aveva le lacrime agli occhi, non se la sentiva di parlare. Le porte della morte gli sembravano un'offesa personale, progettate apposta per ricordargli tutto ciò che non poteva avere. Mentre si riprendeva dallo shock, notò altri dettagli. La brina che si spandeva alla base delle porte, il bagliore purpureo nell'aria che le circondava, le catene con cui erano fissate. Cavi di ferro nero correvano lungo entrambi i lati della struttura, come funi di ancoraggio di un punte sospeso. Erano legati a ganci, conficcati nel terreno di carne. I due titani, Crio e Perione, sorvegliavano i punti di ancoraggio. In quello stesso istante, l'intera struttura fu scossa da un fremito. Lampi neri dardeggiarono nel cielo, le catene tremarono e i titani piantarono i piedi sui ganci per tenerli fermi. Le porte si aprirono, rivelando l'interno dorato di un ascensore. Persi si tese, pronto per l'attacco, ma Bob gli mise una mano sulla spalla. Aspetta, lo ammonì. Iperione gridò alla folla circostante, «Gruppo A-22! Sbrigatevi, fannulloni!» Una decina di ciclopi si precipitò in avanti, agitando biglietti rossi ed esultando. In teoria, non avrebbero potuto infilarsi in quelle porte a dimensione umana, ma via via che si avvicinavano, i loro corpi si deformavano e rimpicciolivano, e le porte della morte li risucchiavano dentro. Crio piantò il pollice sul pulsante su, al lato destro dell'ascensore. Le porte si chiusero. La struttura vibrò ancora. I lampiscuri svanirono. «Devi capire come funziona», borbottò Bob. Si era rivolto al micio che teneva sul palmo della mano. Forse perché così gli altri mostri non si sarebbero chiesti con chi stesse parlando. «Ogni volta che le porte si aprono tentano di teletrasportarsi in un posto diverso. Thanatos le ha costruite così per poter essere l'unico a trovarle. Ma adesso sono legate alle catene. Non possono spostarsi». «Allora tagliamo le catene», sussurrò Annabeth. Percy scrutò la sagoma scintillante di Perione. L'ultima volta che aveva combattuto contro il titano, gli c'era voluta tutta la propria forza e per poco non ci aveva rimesso la pelle. Adesso i titani erano due e in più avevano il sostegno di diverse migliaia di mostri. «Il nostro camuffamento sparirà se facciamo una cosa aggressiva tipo tagliare le catene», domandò. «Non lo so», rispose Bob, sempre rivolto al micio. «Miau», commentò Bobbino. «Bob, devi distrarli tu», suggerì Annabeth. «Io e Percy passiamo di nascosto intorno ai due titani e tagliamo le catene da dietro». «Sì, bene», replicò Bob. «Ma c'è un problema. Quando sarete dentro le porte, qualcuno dovrà stare fuori a premere il pulsante a difenderlo». Percy tentò di deglutire. «Difendere il pulsante?» Bob annui, grattando il micio sotto il mento. «Qualcuno deve continuare a premere il pulsante per dodici minuti. Altrimenti il viaggio non si concluderà». Percy lanciò un'occhiata alle porte della morte. Crio teneva ancora il pollice premuto sul pulsante. «Dodici minuti». In un modo o nell'altro bisognava allontanare i titani da quelle porte. Poi uno di loro avrebbe dovuto tenere premuto il pulsante per dodici lunghi minuti, in mezzo a un esercito di mostri nel cuore del tartaro, mentre gli altri due salivano nel mondo mortale. Era impossibile. «Perché dodici minuti?» «Non lo so», rispose Bob. «Perché dodici dei dell'Olimpo o dodici titani?» «Giusto», commentò Percy. «In che senso il viaggio non si concluderà?» chiese Annabeth. «Cosa succede ai passeggeri?» Bob non rispose. A giudicare dalla sua espressione sofferta, Percy intuì che non avrebbe voluto trovarsi dentro l'ascensore se la macchina si fosse bloccata fra il tartaro e il mondo dei mortali. Decise che era meglio non pensarci. «Se noi spingiamo il pulsante per dodici minuti e le ne vengono tagliate, le porte dovrebbero resettarsi. Boba Nui scompariranno da qui. Appariranno da un'altra parte, dove Gea non potrà utilizzarle.» «Tanatos ne riprenderebbe possesso», disse Annabeth. «La morte tornerà nella norma e i mostri non avranno più la loro scorciatoia per il mondo dei mortali.» Percy sospirò. «Un gioco da ragazzi!» «Tranne per... beh, per tutto.» Bobbino cominciò a fare le fusa. «Spingerò io il pulsante», si offrì Bob. Un miscuglio di sentimenti ribollì nello stomaco di Percy. Dolore, tristezza, gratitudine e senso di colpa, che si addensavano in una sorta di cemento emotivo. «Bob, non possiamo chiederti una cosa del genere. Anche tu vuoi varcare le porte della morte. Vuoi vedere ancora il cielo, le stelle? Mi piacerebbe», concordò Bob. «Ma qualcuno deve premere il pulsante. E una volta tagliate le catene, i miei fratelli combatteranno per impedirvi di passare. Non vorranno veder scomparire le porte.» Percy fissò l'infinita orda di mostri. «Anche se avessero lasciato compiere quel sacrificio a Bob, come avrebbe potuto un solo titano difendersi contro così tante creature malvagie per dodici minuti, tenendo nel frattempo un dito sul pulsante.» Il cemento si solidificò nello stomaco di Percy. Aveva sempre sospettato come sarebbe andata a finire. Toccava a lui rimanere. Mentre Bob respingeva l'esercito, Percy avrebbe tenuto premuto il pulsante dell'ascensore, assicurandosi che Annabeth si mettesse in salvo. In qualche modo, doveva convincerla ad andarsene senza di lui. Se Annabeth si fosse salvata e le porte fossero scomparse, lui sarebbe morto, sapendo di aver fatto la cosa giusta. «Persi?» Annabeth lo fissò. C'era pressione e diffidenza nel suo tono di voce. Era troppo intelligente. Se avesse incrociato il suo sguardo, avrebbe capito tutto. «Una cosa per volta», disse Percy. «Tagliamo quelle catene.» l'ha piensa. «Una cosa per mancia.»» «C'è la crap tottta» «Cuidichi»